Anche l'anello, signore? Padrone, qui ce l'avete un libro di preghiere? Ogni uomo nato da donna ha soltanto un breve tempo per vivere... Oh, un matrimonio! E matrimonio sia! Cari fratelli, siamo qui riuniti davanti a Dio e davanti a questa congregazione... Tutta canaglia di un ladro, Relevando le tasse per quell'arrogante, avido, spietato, malvagio Principe Giovanni! Fuori dalla mia chiesa! Fuori! 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 Fuori!